Il pronto soccorso dell'ospedale CTO di Iglesias riaprirà il 13 agosto e il primo risultato della mobilitazione del territorio di ieri a Cagliari, la riapertura sarà possibile con l'impiego dei cosiddetti medici in affitto. La ragione in campo per dare un futuro ai lavoratori della centrale Grazia dell'Edda. Ieri la situazione è stata esaminata nel corso di un incontro svoltosi in videoconferenza tra Regione, Sindacati dei Metalmeccanici e Enel. Accordo tra quattro comuni del Sulcis per la valorizzazione del patrimonio archeologico. Il primo comune a deliberare è stato Trattalias, a breve lo faranno anche Giba, San Giovanni Suerzio e Villa Peruccio. Al via il 21 agosto la Coppa Italia di eccellenza regionale di Calcio, 18 le squadre impegnate, la diciannovesima il Porto Rotondo, San Teodoro, ha rinunciato. Ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale che anche oggi apriamo con la sanità. Ieri c'è stata una grande mobilitazione popolare a Cagliari con l'adesione all'iniziativa che è stata organizzata da CGL Cisle Will di ben 25 sindaci, 23 dei comuni che ricadono nell'area della Sulcis più i comuni di Teolada e di Siliqua. Al termine, come abbiamo già documentato nel corso della nostra edizione di ieri del telegiornale, c'è stata l'audizione dei sindaci e dei sindacati in Commissione e Salute e al termine di questa riunione che è durata circa 4 ore, è stato deciso che il pronto soccorso del CTO riaprirà con l'impiego dei cosiddetti medici in affitto. E' appunto questo il primo risultato di questa mobilitazione, ma vediamo di capire cosa c'è ancora all'orizzonte in prospettiva perché questo è un primo piccolo risultato, ma ovviamente le problematiche della sanità nel Sulcis e Iglesias sono molte e gravi e riguardano un pochino tutti i settori, tutte le specialità per la carenza dei medici e in qualche caso anche per la chiusura dei servizi. Vediamo. Il pronto soccorso dell'ospedale CTO di Iglesias riaprirà il 13 agosto con l'impiego dei medici in affitto, ma se i numeri dei medici lo consentiranno l'apertura potrà essere anticipata. Lo ha assicurato la direttrice generale della ASL Sulcis Giuliana Campus al termine del lungo incontro promosso dal presidente del Consiglio regionale Michele Paes dalla Commissione Salute presieduta da Antonio Mundula di Fratelli d'Italia e dai capigruppo consigliari con i 23 sindaci del Sulcis Iglesias e i rappresentanti di CGL CISL e UIL. La dottoressa Giuliana Campus ha anche richiesto l'invio di un ordine di servizio a 5 medici del reparto di chirurgia affinché dall'8 agosto si mettano a disposizione della direttrice del pronto soccorso della ASL numero 7 Viviana Lantini. Al termine della riunione è stato assunto l'impegno di organizzare per martedì un altro incontro con i sindaci, l'assessore regionale della sanità Mario Nieddu, i vertici della ASL Sulcis e dell'assessorato per definire le modalità della riapertura del pronto soccorso di Iglesias. Questo risultato è arrivato dopo ore di discussioni grazie alla mediazione del presidente del Consiglio, del presidente della Commissione e dei consiglieri regionali, in particolare Michele Ennas della Lega, Piero Comandini del PD, Francesco Agus dei progressisti e Carla Cuccu del gruppo misto Idea Sardegna. Quando ho saputo della manifestazione, ha detto Michele Pais, non ho avuto alcun dubbio sulla necessità di audire i sindaci. Il presidente del Consiglio regionale ha auspicato una rapida soluzione della grave situazione in cui si trovano, oltre al Sulcis, anche altri territori della Sardegna per la carenza di medici. Il presidente della Commissione Salute, Antonio Mundula, ha ricordato che l'assessore Mario Niedu ha formulato esplicite richieste al Ministero della Salute per poter affrontare con misure straordinarie il grave stato di emergenza sanitaria in cui versa tutta la Sardegna. Corrisponde al vero che la direzione generale della ASL Sulcis non ha autorizzato il rientro in servizio di medici in cui escenza per coprire le carenze del CTO di Iglesias. Lo chiede con una nuova interrogazione la consigliera regionale di IDEA Sardegna, Carla Cucu. La chiusura del pronto soccorso e la riduzione di importanti servizi sta creando fortissimi disagi, ha sottolineato la consigliera che è anche componente segretaria della Commissione Salute del Consiglio regionale. All'intera popolazione del Sulcis e i numerosi turisti che sono presenti nel territorio nel periodo estivo. Ma l'aver appreso che alcuni medici in pensione, ha aggiunto Carla Cucu, si sarebbero resi disponibili a rientrare in servizio per il periodo necessario a risolvere l'emergenza che si è venuta a determinare al CTO e che la loro offerta sarebbe stata rifiutata, ci lascia quantomeno perplessi. Da qui la nuova interrogazione all'assessore della Sanità Mario Niedu perché faccia chiarezza sulla vicenda. Siamo al consueto quotidiano aggiornamento con i dati dei contagi da coronavirus. Purtroppo oltre all'emergenza, le carenze del sistema sanitario nel quotidiano, nei vari reparti c'è anche sempre in piedi il problema dell'emergenza pandemica che ancora dirà da essere superata. Sono stati 1.198 i nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna su 4.979 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore 153 nuovi casi sono stati diagnosticati da tampone molecolare, 1.045 da tampone antigenico. Sono rimasti invariati sia il numero dei pazienti ricoverati nelle parti di terapia intensiva che sono 15, sia il numero dei pazienti ricoverati in area medica che sono 169. Sono invece in diminuzione anche sensibile, abbastanza marcata, 1.269 casi in meno, le persone che si trovano in stato di isolamento domiciliare. È sceso questo numero a 28.145. Purtroppo si registra ancora dei decessi, sono stati 5 in 24 ore. Una donna di 92 anni e un uomo di 77 residenti nella provincia di Sasse, una donna di 89 e due uomini di 65 e 82 residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro, in quella del sul Sardegna e nella città metropolitana di Cagliari. Si tratta un po' praticamente in tutti i casi di persone con altre patologie che poi si ammalano anche di Covid e diciamo che il Covid rappresenta poi purtroppo un passaggio determinante per il loro decesso. Cambiamo pagina. Ieri mattina si è svolto un incontro in videoconferenza tra Regione, Sindacati dei Metalmeccanici, FIOM, FSM e Wilm ed Enel. Sul futuro della centrale Enel, grazie ad Enel, con particolare riferimento ai lavoratori delle imprese d'appalto o metalmeccanici. Vediamo. I lavoratori meritano garanzie per il loro futuro e una stabilità che riguardi sia il presidio industriale sia il profilo lavorativo e occupazionale. Lo ha detto l'assessora regionale dell'industria Anita Pili, che ieri ha ascoltato in videoconferenza i rappresentanti delle segreterie territoriali dei lavoratori metalmeccanici FIOM CGL, FSM Cisle e Wilm Will, in merito alla situazione della centrale Enel, grazie ad Eleda di Portovesme. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di Enel che hanno proposto un piano di riqualificazione delle aziende e del personale locale, mediante la formazione per il reskilling dei lavoratori e altre iniziative di supporto. Da parte delle dite d'appalto, ha detto l'assessore dell'industria, vi è una legittima preoccupazione di non vedere rinnovate le commesse. La Regione è sensibile a questo tema e l'incontro di questa mattina vuole far sì che si arrivi insieme ad una strategia che scongiure il ricorso a soluzioni emergenziali che non tutelerebbero né i lavoratori né il futuro della centrale. All'incontro è intervenuta la vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda. La Regione ha detto intende sostenere la riconversione industriale del polo di Portovesme. Alla luce della grave crisi internazionale in atto e del programma nazionale di transizione energetica avviato dal Ministero della Transizione Ecologica, l'assessorato del lavoro gioca d'anticipo e mette in campo i progetti formativi necessari per un'eventuale riqualificazione professionale dei lavoratori, propedeutici al percorso di diversificazione energetica che l'Enel avvierà nei prossimi anni. Grazie al lavoro della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni, di cui la Regione Sardegna è Presidente, ha aggiunto l'assessore dell'industria Anita Pili, è stato approvato lo strumento dell'Energy Release, al momento in fase di decreto attuativo al MITE. Con il Ministero c'è una interlocuzione costante affinché questo strumento, che è stato normativamente approvato, sia poi nei fatti operativo ed efficace per le aziende energivole della Sardegna. Al contempo la questione energetica nel suo intero viene affrontata quotidianamente a livello nazionale. Da parte della Regione Sardegna, ha concluso Anita Pili, c'è la volontà di lavorare tutti insieme. Nei prossimi giorni convocheremo un tavolo congiunto dopo il 20 agosto per la sottoscrizione di un accordo che ci veda operativi fin da subito, affinché la Regione Sardegna possa portare un contributo all'interno delle strategie nazionali in qualità di Presidente della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni, nella quale sede abbiamo contribuito alla stesura delle leggi necessarie ad affrontare le attuali emergenze. Il piano particolareggiato del centro matrice del comune di San Giovanni Suergio è realtà. La Regione, infatti, dopo l'esame di tutte le osservazioni e con la pubblicazione nel Buras, ha certificato il via libera definitiva all'importante strumento urbanistico relativo al centro di antica e prima formazione del comune di San Giovanni Suergio. Il piano prevede la valorizzazione della parte più antica della struttura insediativa, la cui tutela è fondamentale per il mantenimento dei valori e degli elementi identitari che devono essere preservati per le generazioni future e la cui valorizzazione è necessaria per mantenere l'attrattività ed evitare lo spopolamento dei centri minori, limitando allo stesso tempo il consumo delle risorse. Soddisfatto del risultato, il sindaco di San Giovanni Suergio, Elvira Usai. È definitivamente efficace il piano particolareggiato del centro matrice, un altro strumento fondamentale, ha detto Elvira Usai, per lo sviluppo del nostro Paese in linea con regole certe e premessa, per un miglior decoro urbano, oltre che base per una ripartenza economica in campo edilizio. È stato pubblicato l'avviso Master & Back, il programma regionale che consente ai giovani sardi di svolgere Master Post Laurea in prestigiose università fuori dall'isola. Lo stanziamento complessivo è di 3.876.366 euro, così ripartito linea, 1.938.183, destinati a finanziare percorsi di alta formazione post lauream e l'ultimo anno del corso di laurea specialistica magistrale in università pubblico-private, italiana o estera, in discipline afferenti all'ambito science, technology, engineering, matematica e linea B, 1.938.183 euro, o virgola 26 per la precisità, per tutti i percorsi di alta formazione post lauream non afferenti all'ambito delle discipline STEM. I percorsi di alta formazione devono essere eseguiti in università, istituti non universitari, che operano fuori dall'isola e concludersi entro il 31 ottobre del prossimo anno, del 2023. La borsa di studio copre le tasse di iscrizione fino a un massimo di 18.000 euro, il costo forfettario delle spese di vittu e alloggio, anche in questo caso fino a un massimo di 18.000 euro, e il costo, un attantum, delle spese di viaggio per una tratta di andata e ritorno. La domanda di partecipazione completa di tutti gli allegati richiesti si può inviare tramite PEC a partire da ieri, praticamente, fino al 30 novembre 2022. A questo indirizzo, aspal.altaformazione.chiocciola.pec.regione.sardegna.it. Ripeto, aspal.altaformazione.chiocciola.pec.regione.sardegna.it. Si tratta di un mando a sportello per cui si seguirà l'ordine cronologico di invio. L'assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della regione, Valeria Satta, ha ascoltato in videoconferenza i rappresentanti dei sindacati CGL, Funzione pubblica, CISL, FPS, UIL, Funzione pubblica, CLARE, SNAF e FESAL, in merito alla riclassificazione del personale prevista dalla legge regionale numero 17. I 5 milioni di euro sono pronti, ha detto Valeria Satta. Ho ricevuto diverse proposte interessanti che le sigle sindacali hanno portato al tavolo e da esse trarrò gli spunti per predisporre una delibera da portare in giunta, anche tenendo conto dei criteri della riclassificazione a livello nazionale. Le risorse sono pronte, ha concluso Valeria Satta. È fondamentale definire in questa fase indirizzi politici precisi. Sarà poi compito del Coran convocare le sigle e decidere, come impiegare questi 5 milioni di euro. Quattro comuni del Sulcis hanno siglato un accordo per la valorizzazione comune del loro patrimonio archeologico. Vediamo i particolari nel servizio. Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio archeologico che insiste ai confini dei comuni di Trattalias, San Giovanni Suergiu, Giba e Villa Peruccio. A San Cirne l'avvio nei giorni scorsi è stato il Consiglio Comunale di Trattalias che ha votato all'unanimità la proposta. Una proposta che sarà poi adottata anche dalle assemblee civiche degli altri tre comuni. Abbiamo iniziato un percorso insieme, volto a detto Emanuele Pess, primo cittadino di Trattalias, a valorizzare l'intero patrimonio archeologico dei nostri territori. Sappiamo di avere una ricchezza enorme da gestire, da rendere fruibile per tutti e non solo per fini turistici, ma anche per salvaguardare la nostra memoria più remota. L'accordo di programma prevede la possibilità di poter valorizzare i tre siti che per questioni territoriali sono ai confini dei quattro comuni. Si tratta del Nuraghe Meurra, tra San Giovanni Suergiu, Giba e Trattalias, il Nuraghe Craminalana, tra San Giovanni Suergiu e Trattalias e il Nuraghe Monserrau, tra Trattalias e Villa Peruccio. Ciascuno di essi verrà valorizzato in forma associata e ciascun comune farà la sua parte per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Nelle prossime settimane il nostro comune, ha aggiunto Emanuele Pesse, si occuperà di affidare un primo incarico di identificazione, studio e delimitazione dei siti e non solo. Il progetto per Trattalias infatti verrà ampliato anche a quelli che integralmente ricadono nel nostro territorio, quali in Nuraghe Cucu, Carroccia e Carroccia Pineta e Sezu. Sappiamo che c'è molta strada da fare, ma ora finalmente ha concluso il sindaco di Trattalias, abbiamo iniziato il percorso e lo faremo uniti, cercando il sostegno di tutti, per creare la rete museale dei siti naturalistici e archeologici del Sulcis. Un nuovo traghetto entra a far parte della flotta delle navi gialle di Corsica a Sardinia Ferris. L'unità, acquistata dalla compagnia finlandese Viking Line, sarà ribattezzata Megavictoria. Arriverà nel Mediterraneo nel mese di ottobre ed entrerà in servizio nel 2023. I locali e le cabine sono stati oggetto di un recentissimo e completo restyling e la nave, che si presenta luminosa, spaziosa, moderna e confortevole, rispetterà lo stile di standard di accoglienza delle navi gialle. Il Megavictoria, lungo 170 metri, largo 27,6, accoglierà fino a 2.400 passeggeri e 450 veicoli e avrà a disposizione 900 metri lineari per il carico rotabile. Le 460 cabine presenti, interne, esterne, lusso e dog friendly, dedicate alle amici e quattro zampe, sono adatte a ogni necessità e dotate di tutti i comfort. E di due persone, siamo alla coronaca, due persone denunciate a piede libero, il sequestro di armi artigianali, munizioni e selvaggine accatturate illegalmente, il bilancio di un'operazione anti-braconaggio condotta dalla stazione forestale di Pula la scorsa notte. Durante un servizio di perlustrazione nel parco regionale di Gutturumanno, in un'area ricadente nel territorio comunale di San Rocco, una pattuglia della stazione forestale di Pula ha intercettato due persone armate che si apprestavano ad esercitare la caccia clandestina. All'intimazione dell'altro i due uomini sono andati alla fuga. Uno dei due è stato raggiunto dai forestali che gli hanno sequestrato un'arma perfettamente funzionante ma senza alcun segno identificativo. L'altro indagato, ancora che riconosciuto, ha fatto perdere le sue tracce liberandosi dell'arma che però è stata recuperata dal personale del corpo forestale insieme ad un involucro contenente le munizioni. Dalle verifiche tecniche le armi, anche se del tutto simili alle normali armi da caccia in commercio, sono risultate essere clandestine in quanto costruite artigianalmente. A seguito della perquisizione nell'abitazione degli indagati, gli inquirenti hanno scoperto in un congelatore della carne di cinghiale acquisendo le prove della sua illecita provvedienza. I comuni di Orune e Nuoro si sono uniti, hanno fatto un patto per valorizzare il futuro di Lollove. Vediamo. Un patto tra i comuni di Nuoro e Orune per il futuro della frazione di Lollove. Il vice sindaco di Nuoro, Fabrizio Beccu, e l'assessora con delega su Lollove, Valeria Romagna, si sono incontrati nel borgo insieme alla sindaca di Orune, Giovanna Porcu, e all'assessore dei lavori pubblici, Luigi Dejama. Gli amministratori hanno concordato di pianificare e progettare insieme i lavori per garantire l'accessibilità e la sicurezza, nonché avanzare eventuali richieste di finanziamento. La valorizzazione passa anche dall'essere facilmente raggiungibile dai visitatori. L'ingresso all'antico borgo è possibile attraverso due strade, una di pertinenza dal capoluogo, l'altra dalla statale 131 di Cien, che invece ricade nel comune orunese. Differenti competenze che nel tempo hanno creato difficoltà nella pianificazione di interventi simultanei sul miglioramento della viabilità e a cui ora si vuole trovare una soluzione creando un'unione di intenti tra le due amministrazioni che ponga al centro la promozione di Lollove e lo sviluppo di un turismo ambientale e culturale. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per la valorizzazione di Lollove, affermano Fabrizio Beccu e Valeria Romagna. La sinergia tra i due comuni è fondamentale. Se vogliamo creare condizioni di crescita turistica e culturale, dobbiamo ragionare sempre più in termini di territorio e non andare avanti in ordine sparso e a compartimenti stagni. Se la frazione di Lollove, che è uno dei borghi più belli d'Italia, sarà sempre più visitata e conosciuta, ne beneficeranno anche Nuoro, Orune e l'intera regione. E questo vale per ogni aspetto, non solo turistico o culturale. La sicurezza della viabilità e la facilità di accesso ai luoghi di interesse culturale, ribadisce la sindaca di Orune, Giovanna Porcu, sono condizioni necessarie per lo sviluppo del nostro territorio in chiave economica e turistica. Sotto questo e altri aspetti, la collaborazione tra amministrazioni può giocare un ruolo fondamentale, Lollove ne è un esempio. Alle 7.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri a Porto Torres per il crollo di una porzione di tetto e di solaio di un'abitazione. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta nel cedimento. L'edificio è stato evacuato in via precauzionale per effettuare anche delle verifiche sull'intera struttura. Ieri i carabinieri del radiomobile della compagnia di Villa Ciro e i colleghi della stazione hanno denunciato a piede libero per furto aggravato un 31enne rom nato a Sciacca, una 31enne rom nata a Sciacca, domiciliata a Settimo San Pietro, di fatto senza fissa dimora e disoccupata. Nella tarda mattinata di ieri la donna è entrata nella chiesa di Santa Barbara, ubicata in via Parrocchia numero 1 a Villa Ciro. Dopo aver distratto l'addetta alle polizie presente all'interno dell'edificio ha trafugato dalla borsa della donna lasciata appoggiata e incustodita su uno dei banchi della chiesa un telefono cellulare che è stato poi recuperato dai militari che sono intervenuti e hanno restituito lo stesso alla legittima proprietaria. Boom delle bolse di studio all'Università di Cagliari. Vediamo il bilancio di questo nuovo bando. Sono stati pubblicati i bandi per il 38esimo ciclo dei dottorati di ricerca per l'anno accademico 2022-2023 dell'Università di Cagliari. L'Ateneo ha stanziato ben 133 borse rispetto alle 77 dell'anno precedente. Di queste 115 sono state attribuite ai 16 dottorati locali. Sono stati attivati ben 14 dottorati di interesse nazionale cui l'Università degli Studi di Cagliari aderisce con 17 borse in qualità di partner finanziatore unitamente principali Ateneo italiani. Un'ulteriore borse è stata destinata a un dottorato associato. Si tratta di un grande sforzo dell'Ateneo, ha detto il Rettore Francesco Mola, che ha puntato decisamente sui propri giovani, dando loro una straordinaria opportunità di formazione avanzata e di crescita professionale. Contemporaneamente l'Ateneo, in coerenza con le proprie linee strategiche, ha ancora una volta inteso dare il proprio contributo allo sviluppo del territorio, integrando la propria offerta dottorale, con la partecipazione ai dottorati di interesse nazionale tramite un articolato piano di ricerca di base, specificamente mirata a tematiche di grande urgenza e di alto impatto, come per esempio l'energia, la sostenibilità ambientale e la mobilità, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale e le neuroscienze e così via. L'obiettivo di un corso di dottorato è l'acquisizione di una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, che può essere esercitata presso università, enti pubblici o soggetti privati, o ancora l'acquisizione di professionalità di elevatissimo livello. Ci spostiamo nel nord Sardegna, in Gallura, per il comune di Erzachena, che offre le sedie job, incomodato d'uso per l'utilizzo nelle spiagge. Vediamo. Contribuire a rendere la destinazione più accessibile per i turisti e i residenti con difficoltà motoria è mettere a disposizione delle sedie job ad associazioni di volontariato e concessionari balneari per l'impiego incomodato d'uso gratuito. È l'obiettivo del comune di Erzachena, che lo scorso anno ha acquistato sei sedie per un importo di circa 5.000 euro. Tre sono già impegnate fin dall'inizio della stagione estiva, una nella spiaggia di Capriccioli, dietro alla gestione della municipalizzata Giaseco, presso il centro servizi. Altre due sono state assegnate a concessionari privati attivi nella spiaggia di Mannena. Alcune concessioni si sono già attivate indipendentemente e contribuiscono a fornire un servizio essenziale per residenti e visitatori con disabilità che desiderano trascorrere una giornata al mare, ha detto Alessandro Careddu, assessore dei servizi sociali. Inoltre due imprenditori hanno partecipato al mando comunale sin dalla sua prima pubblicazione, dimostrando grande sensibilità verso il tema. Oggi però, considerato che abbiamo ancora tre sedi da assegnare, faccio appello ai concessionari balneari affinché contribuiscano a rendere la destinazione più accessibile e aperta per turisti erzachenesi. C'è ancora molto da fare per favorire l'accessibilità sui litorali. Come amministrazione pubblica cerchiamo di muovere un passo avanti ogni anno nel migliorare i servizi in tal senso. Con le sedie job speriamo di poter incidere positivamente per rendere più gradevole il tempo trascorso in spiaggia ai bagnanti con difficoltà motorie. Per facilitare la fruibilità degli arenili, il Comune di Erzachena, tramite l'ufficio ambiente, ogni anno installa le passerelle in legno in alcune delle spiagge a maggior affluenza del territorio comunale, Mannena, Tancamanna, Laconia, Calagranu, Piccolo Pevero e Grande Pevero. La compagnia Baracelai di Senoli ha a disposizione un nuovo mezzo per combattere gli incendi. Il nuovo pick-up dotato di modulo antincendio è stato acquisito dal Comune grazie a un bando della Regione Sardegna che consente alle amministrazioni pubbliche di ottenere a costo zero i mezzi dismessi dal corpo forestale regionale. Il pick-up, già in buone condizioni, è stato riverniciato, revisionato, brandizzato e re-metricolato ed è andato a potenziare il parco macchine della compagnia Baracellare che dispone ora di 5 mezzi, 2 antincendio con modulo, un fuoristrada e una Fiat Punto per il pattugliamento dell'agro e un'auto elettrica per i servizi a supporto della polizia locale nel centro urbano. Non solo sgravi sulle certificazioni bio, la Sardegna punta a diventare isola biologica e lavoratorio del Mediterraneo. Sono questi gli obiettivi di un ambizioso progetto sul quale già al lavoro Lillo Alaimo di Loro, presidente dell'Associazione Nazionale Italia Bio, appena rientrato da Guspini dove ha incontrato le autorità locali, gestori di imprese agricole e Daniela Ducato, presidente della Fondazione Ambiente Italia. Insieme con Daniela Ducato, ha detto Lillo Alaimo di Loro, abbiamo discusso delle opportunità che il modello culturale biologico offre alla Sardegna e delle potenzialità dell'isola, non tralasciando il sostegno alla certificazione bio, per il quale l'iter non dovrebbe risultare assolutamente complicato, considerato che già altre regioni d'Italia stanno lavorando con successo per raggiungere questo obiettivo, come ad esempio la provincia autonoma di Trento. Via alle richieste per accedere ai rimborsi delle spese di viaggio degli studenti di Sant'Ali che frequentano le scuole superiori del Sulcisi. Il Comune nei giorni scorsi ha aperto i termini per la presentazione delle domande relative all'anno scolastico 2021-2022. Le istanze dovranno essere depositate entro il prossimo 31 agosto. I moduli da utilizzare sono disponibili e scaricabili dal sito internet del Comune di Sant'Ali, presso l'ufficio del protocollo da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 o nei raccoglitori posti all'ingresso del Municipio. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Comune dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, telefonando anche al numero 0781 94 20 322. Ripeto, 0781 94 20 322. Manca ormai poco per la ventotesima sagra del Pane Zicchi di Bonorva. Si comincerà giovedì 11 agosto alle 18 a Casa Fozzi con la presentazione del libro Pane Zicchi di Bonorva di Angelo Moritto. In contemporanea in Piazza Santa Maria verrà inaugurata una mostra dell'artista Angelo Senes e verrà inaugurata anche un'esposizione di artigianato artistico. Venerdì 12 agosto dalle 18 e 30 in corso Umberto I spazio alla manifestazione artistica Urban Art Project della cooperativa Babaiola. Alle 19 in via Sauro verrà inaugurato il monumento dedicato al Pane Zicchi. Sabato 13 agosto alle 9 e 30 in programma un raduno di moto d'epoca. Dalle 17 e 30 si terrà una sfilata di costumi tradizionali di mini folk seguita alle 19 dall'apertura ufficiale della sagra. Alle 21 infine spazio al concerto di Maria Luisa Congiu in Piazza Santa Maria. La cucina del territorio, un'esperienza gustativa e visiva da vivere attraverso le cantine aperte nelle vie del centro storico di Loceri. E questo è il programma di Gennas Abertas che si terrà sabato 6 e domenica 7 agosto. 22 sono le postazioni per un itinerario del gusto live nelle case e nei cortili dove gli abitanti del paese prepareranno le pietanze dal vivo trasformando ingredienti in piatti della tradizione. Antiche ricette, cibi tradizionali e sapori originali saranno messi a disposizione del palato per il pubblico presente e serviti quindi con i menu offerti per la cena. Un evento che comprende anche i concerti di Roche Rosse Blues in programma Loceri il 10 e il 19 agosto con i Deandre Ensemble e i Tazenda, i balli in piazza e i giochi per i bambini. E' stato rinviato per motivi di salute il concerto del trio Cats in the Kitchen inizialmente annunciato per domenica 7 agosto a Piscinas, a Villa Salazar che sarà riprogrammato in data da definire. Sarà invece il mito di Jimi Hendrix ad illuminare giovedì 11 agosto la seconda tappa delle anteprime del 37esimo festival internazionale ai confini tra Sardegna e Jazz di scena sul Sardegna con gli appuntamenti della rassegna Jazz Around. Una sorta di festival nel festival che anticipa il cuore della manifestazione storicamente di casa Sant'Arnaresi. Si va in scena alle 21 alla Cantina Sant'Adi con l'esplosivo tributo a Jimi Hendrix un omaggio al rivoluzionario chitarrista di Seattle nato da un'idea di Andrea De Luca, talentuoso bluesman. Ad accompagnarlo nel trip sonoro una stella del jazz italiano il batterista Roberto Gatto e l'originale solida struttura di basso di Pierpaolo Ranieri. Dopo le tre serate di tutto esaurito per Ludovico Inaudi all'Anfiteatro di Tarros sulla Marina di Cavalas il 24esimo festival Dromos ritorna nell'entroterra oristanese in Marmilla per un concerto perfettamente in tema con il titolo che connota questa edizione. In pieno svolgimento dallo scorso 23 luglio fino al 13 agosto. Saltimbanchi, titolo ispirato ad una nota poesia di Aldo Palazzeschi. Chi sono? Protagonista Antonello Salis in concerto domani sera sabato 6 agosto alle 21 a Morgongiori in un altro scenario di grande suggestione come il Tempio Ipogeico Sascave Egresia. Ad affiancare l'istrionico pianista e fisarmonicista sardo saranno l'orchestra jazz della Sardegna diretta da Riccardo Fassi e amici ospiti come la cantante Elena Vedda, il grande maestro delle Launeddas Luigi Lai e il Concordu e Tenore di Orosei. Il Comune di Curcuri si prepara a vivere la seconda edizione del Festival Estivo Comunitario Antico e Moderno organizzato dall'amministrazione comunale con la collaborazione dei volontari della Proloco. Dal 7 agosto a metà settembre sono in programma una decina di appuntamenti. L'edizione 2022 della Rassegna ha come tema appunto antico e moderno. Per il sindaco Raffaele Piloni l'allocuzione Antico e Moderno abbraccia la dimensione del divenire sia sul piano della dicotomia, del dualismo sia sul piano della continuità e commissione tra ciò che è antico e ciò che è moderno. Il tema è ampio ed eterogeneo ed è stato declinato in varie prospettive di studio, filosofiche e più strettamente scientifiche nonché scrutato da vari punti di vista difficilmente contenibili in un elenco rigido. Slow Food Cagliari all'interno della sua rassegna dedicata a cibo, salute e biodiversità costruiremo in Sardegna una destinazione gastronomica sostenibile grazie alla valorizzazione delle specificità produttive ed ambientali delle isole Slow della Sardegna sostenuta dalla Fondazione di Sardegna propone la degustazione degli ottimi vini della comunità Slow Food dedicata alla valorizzazione del Carignano a piede franco su fondo sabbioso attiva nell'isola di Sant'Antio con i territori di Casetta e Sant'Antioco. Durante tutta la manifestazione e l'aperitivo sarà possibile degustare alcune specialità locali come le creme di verdure selvatiche di Perle di Sardegna, frumi maggiore e altri prodotti presi di Slow Food da accompagnare i vini. Appuntamento alla tenuta La Sabiosa in località Cussorgia, Calasetta, lungo la strada statale 126, indicazioni La Sabiosa per questa sera alle ore 19.30. Siamo al calcio nella parte conclusiva del Tg, la Coppa Italia di eccellenza regionale scatterà domenica 21 agosto alle 17.30 con sei accoppiamenti con partite di andata e ritorno e due triangolari. La seconda giornata di triangolari è in programma mercoledì 24 agosto, la terza è di ritorno degli accoppiamenti, mercoledì 31 agosto, tre giorni dopo l'inizio del campionato di eccellenza che scatterà domenica a 28 agosto. Un anno fa la Coppa Italia, lo ricordiamo, la vinse l'Ossese due anni fa il Carbonia. Il porto rotondo inserito in un terzo triangolare con Calangianus e Budoni ha rinunciato. Il calendario prevede Calangianus-Budoni, la Nusella-Norese riposa il Taloro-Gavoi, Sassa di Calcio-Latte-Dolce con Lipunti, Bosa-Ossese, Ghirazza-Tarros, Villa Cidrese-Arbus, Carbonia-Iglesias e infine Sant'Elena IV-Ferrini, in questo caso nel triangolare riposa nella prima giornata la Cosmoto Monastia. La notizia era nell'aria ormai da giorni ed è arrivata ieri la conferma. L'Atletico Villa Peruccio non si è iscritto al campionato di prima categoria. Al suo posto arriva l'Atletico Masainas, una delle otto squadre ripescate dal Comitato regionale della Feder Calcio. Il calcio comunque non dovrebbe sparire da Villa Peruccio perché lo splendido impianto comunale, che rimane orfano della propria squadra di calcio, dispone questo del miglior manto erboso presente sui campi del sulciclesente, dovrebbe essere utilizzato nella prossima stagione agonistica dal Carbonia Calcio per l'attività del suo intero settore giovanile. Prima di chiudere ricordiamo che questa sera alle 21.10 su Canale 40 andremo in onda la quattordicesima puntata di Noesis, programma in lingua sarda dedicato alla filosofia, ideato e condotto da Giuseppe Corronca, che ha come obiettivo la spiegazione del pensiero dei maggiori filosofi di ogni epoca, dall'antica Grecia fino ai giorni nostri. Il tutto ovviamente in lingua sarda. E' tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione, darvi appuntamento alle prossime edizioni e augurarvi, visto che oggi è un buon fine settimana.